Si chiama Life 3H, il progetto che vede la nascita del primo centro Italia per la mobilità idrogeno con la regione Abruzzo capofila. L'obiettivo è quello di porre le basi per lo sviluppo di tre hydrogen valley attraverso il trasporto pubblico ad idrogeno e le relative stazioni di rifornimento nell'area montana dell'altopiano delle Rocche in Abruzzo, nella città di Terni, centro urbano caratterizzato dalla presenza delle acceglierie e nell'area portuale di Civitavecchia. Una idrogen valley è un ecosistema che include sia la produzione che il consumo di idrogeno e che attua la strategia europea del Green Deal come percorso privilegiato volto a raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Per la regione si tratta di un progetto dalla grande valenza, come spiega il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Tutto il mondo va verso la transizione ecologica e si parla della ricerca avanzata verso nuovi carburanti, nuove energie, energie sostenibili. L'idrogeno verde è una di queste frontiere, la frontiera più avanzata. L'Abruzzo si pone come capofila di questo grande progetto, un progetto che coinvolge altre regioni del centro Italia, Lumbria e Lazio, nella creazione di distretti industriali dove l'idrogeno viene prodotto, in questo caso, nel caso dell'Abruzzo in particolare, dallo scarto di lavorazione della chimica bussi e quindi invece di essere disperso, perduto, insomma lasciato, viene recuperato, utilizzato quindi stoccato e poi utilizzato in pullman che andranno a servire in particolare da subito l'area di Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, insomma l'altopiano delle Rocche, quindi anche in un'area pregiata come un parco regionale dove quindi si farà la mobilità ad emissioni zero e nel futuro, grazie a questo progetto, progettiamo anche di estenderlo sulla Roma Pescara e fare in modo che gli autobus dell'azienda abruzzese siano i primi ad entrare a idrogeno dentro una grande capitale europea.